Bentornati su MyFootballGersey. Iniziano ad arrivare le maglie definitive per la prossima stagione. Questa è la prima maglia dell'Arsenal per la stagione 23-24, in edizione FAN. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it Wow, la maglia è molto bella. Avevamo già avuto un'anticipazione che trovate qui sopra, ma questa devo dire che è molto più bella. Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Mi piace tanto la rifinitura in oro, questo motivo che è stato realizzato sulla trama, veramente una maglia ben riuscita. Il costo lo vedete qui sopra? Che aggiungere per questa maglia veramente molto basso e conveniente. In descrizione qua sotto trovate i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto andate a vedere perché c'è un link per ottenere un coupon da 3 dollari e quindi il costo diventa ancora più vantaggioso. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete le misure. Però se il video vi è piaciuto, se il canale vi interessa, mi raccomando iscrivetevi e lasciate un grande like. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie a tutti.